Limitare gli spostamenti e uscire di casa solo se necessario. L'imperativo riguarda soprattutto gli anziani. È per questo che va nella direzione di una loro maggiore tutela la decisione della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Per i pensionati che non hanno l'accredito sul conto corrente, l'assegno sarà pagato in anticipo per i prossimi tre mesi fino a giugno. La Ministra ha fatto sapere che il pagamento sarà anche scaglionato in modo da evitare assembramenti negli uffici postali. Il pagamento decorrerà a partire da domani, 26 marzo, fino al primo aprile per la mensilità di aprile, dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio, dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno. Poste Italiane ha precisato che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un libretto di risparmio di un conto corrente o di una posta pay evolution, mentre per i titolari di carta libretto potranno prelevare i contanti direttamente dagli ATM esterni senza bisogno di andare presso uno sportello. Chi invece non può evitare di ritirare la pensione in contanti, all'ufficio postale dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario per cognome, dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K alla mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 38 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.